Hello guys, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo su Hearthstone con il mio mazzo mage Che vi faccio vedere Allora è un mazzo che ho fatto io Quindi è per piacere Sapete io non sono bravo a fare mazzi Solitamente li prendo su internet Abbiamo tutte carte quasi basate su ispirazione Comunque la nuova meccanica appunto dell'ispirazione Mi piaceva molto il mazzo del mage della Rissa E ho provato a farne una copia carina Un po' diversa ma comunque che mi piacesse All'interno ho messo Taurissan, Antonidas e Boom come leggendari Signori andiamo subito a cercare una partitozza online Vi dico già che non è un mazzo competitivo Che probabilmente perderemo Però è una meccanica molto divertente per me quella dell'ispirazione E finché non usciranno liste forti tra virgolette con ispirazione Preferisco giocarla così Mi sono fatto il mio mazzo Ok signori siamo contro druido Iniziamo Con una mano non malaccio Sapete che io con il Taurissan me lo tengo Me lo tengo perché Se ci escono delle carte giuste ci può far fare delle combo Signori ma delle combo Per di più partiamo per secondi Possiamo giocarlo di quinto turno È molto buono Molto buono Dai vediamo Cosa fai di bello Marfurion amico mio Eh C'erano tante davvero tante carte carine della nuova espansione E mi sta piacendo Mi sta piacendo È la cosa di ispirazione signori Le combo che si vedono ogni tanto Le combo che si possono fare con questo mazzo Sono assurde Io vi dico Per chi di voi mi ha visto giocare con questo mazzo Sa che è un mazzo molto occasionale Ma che se escono le combo la gente piange Perché proprio piange Non puoi fare altro che piangere Però appunto Devono uscire le combo Vediamo Vediamo come si comporta lui Signori Fornisce un cristallo di mano vuoto Distruggi un cristallo di mano Carina Aia Ok 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 Portale stabile Cosa c'è uscito Spara chiodi Quando lancia magia da umana Mettere nella tua mano un robot casuale Oh Oh non è male Potremmo giocare al prossimo turno Più che altro perché è un 3-6 in realtà Non perché Non abbiamo neanche magia da umana in realtà In questo mazzo Mi sa che non gioco neanche I due tank Le immagini speculari Quindi Questo dovrei fixarlo Dovrei fixare un po' di cose in questo mazzo in realtà Però Però Insomma Potrebbe tornarci utile Allora mettiamoci giù Questo bel 3-6 Molto carino Che è uscito dal portale stabile Mettiamo giù Prossimo turno Avremo 4 di mana E Possiamo giocare O una fireball Se ci interessa Oppure Vediamo un attimino Potremmo anche giocare La novizia La moneta La fireball Però vorrei tenermi la moneta Per tauristan E Sono cose da valutare Signori Cose da valutare Bene Molto bene Vediamo Vediamo Aia 4-4 Con carica Con carica Ovviamente E te pareva Vabbè Quello almeno è morto E siamo a post Tutti contenti Ma è praticamente morto Che facciamo 2 Ok 1 Glielo buttiamo lì Molto bene E se passa Prossimo turno Tauristan Perché Tauristan Perché appunto Ci fa Scalare Il costo Delle carte Che signori E' buono Cioè Non dire che ve lo dico Meno pagata una carta Più diventa forte La carta stessa Perché Potete fare tante combo Vediamo Intanto abbiamo In mano anche 2 Intelletti arcani Che potrebbero Tornarci utili Per farci uscire Quelle famose Carte Delle combo Ok Si è tolto questa cosa 4 danni Bono Così almeno Adesso abbiamo La possibilità Di fare Questo 3 danni Face Proprio Di prepotenza E Boom Abbassiamo Il prezzo Delle nostre Carte Allora Se Il prossimo turno Abbiamo ancora Vivo Taurisan E Il La ravista occultista Io giocherei Un intelletto arcano Almeno E vediamo che cosa peschiamo Poi non lo so Poi ci pensiamo Signori Però per il momento Dobbiamo arrivare a pescare Tutte le carte Che funzionano Con intuizione Perché Con ispirazione Pardon Perché Basiamo tutto il deck Su quello Quindi Se non le peschiamo Aia Silenzio Un servitore Brutta sta cosa Però Non se fa Non se fa Vabbè Ok Allora io direi Di Uccidere Quel 5 Quel 2 4 Tipo Tipo peschiamo Prima Fermi tutti Desta fiamme Ok Allora io direi Desta fiamme Qua Facciamo danni 5 danni Tanto rimaniamo Comunque a 3 vita Molto bene E adesso Abbiamo Un paio di combo Interessanti Che si possono Già fare Già vedo un paio di combo Che Signori Spaccano i culi Però Dipende molto Da quello che giocherà lui Come vedete Come mazzo maggi È un po' atipico Perché è lento Solitamente I mazzi maggi Sono un po' più Face Un po' più diretti Invece Questo Ovviamente È lento Perché ha bisogno Della combo Per vincere Se no perdi Per forza di cose Ciao boom Amico mio Mannaggia Teo Ok Allora Io Farei questa piccola Azione Mannaggia lui Mannaggia Allora Fiamo così Allora A rischio di perdere tutto Facciamo prima così E poi peschiamo Possibilmente Ok Oh signore Il campione di Mucla Ci tornerà Molto molto utile Bene Abbiamo 18 vita Siamo comunque in vantaggio Con due mostri in campo Ancora benissimo Il campione di Mucla Perché È simpatico Perché Nel mazzo maggi Se giocato In combo Con Il draghetto È ancora meglio Con La servitrice Quella che Vi fa costare Il protetto eroe Uno Fa roba bella Fa roba molto bella Perché dà Più uno Più uno Agli alleati Ed è figo Ovviamente Cioè Allora Però qua Ci ha sfondato tutto Ci ha sfondato tutto E la cosa Non è proprio simpatica Allora Possiamo giocare Antonidas No Possiamo giocare Antonidas E basta Perché io pensavo Fosse il nonno turno Non l'ottavo Vabbè Signori Giochiamo Antonidas Stop Vediamo il prossimo turno Di giocare qualcosa Di un po' più intelligente Di farmi i calcoli Semmai Mi capita sempre Questa cosa Dovrei imparare A farli prima Purtroppo Ehm Non siamo messi male Comunque abbiamo Delle buone carte In mano A meno che lui Non tiri Gesù A terra Adesso Possiamo cavarcela Quello non è Gesù Quindi siamo Abbastanza tranquilli Che fai? Ti metti su lo scudo E mi fai un danno? Mi sa di sì Mi sa proprio di sì Ok Allora Adesso noi facciamo Quattro danni al drago Dritti dritti Ma Facciamo prima Desta fiamme Cavolo Non ce la faccio Con Vabbè Sì Comunque ci sta uscendo La gombo Però facciamo così Quattro danni All'amico Fritz Molto bene Cinque danni face Più due Dell'amico Desta fiamme E qua signore Abbiamo una delle carte Che funziona con ispirazione Ogni volta che usiamo ispirazione Ottiene più uno danni magici Avete già capito vero? Oh sì che avete già capito Oh sì che avete già capito signori È vero che anche Così Se non ci uccide tutto Al prossimo turno Abbiamo vinto Però Più due più due Come ho non detto Allora Toglio Antonidas Sicuramente Mi toglie il destra fiamme Ah signore Sapete che in realtà Mi fa piacere E mi ha tenuto quello Mi fa piacere Mi fa molto piacere Allora Facciamo così Cinque E quattro nove E non posso fare La Non posso fare Il potere eroe Facciamo Allora Altri cinque A sto punto signori Mettiamo giù questo Facciamo tre danni Tanto sono mostri Abbastanza grossi Non penso Riesca a farci Quattordici danni In un turno Molto difficilmente Cerchiamo di giocarci Con ispirazione Perché Vorrei appunto Farvi vedere Che possono uscire Cose carine Ma è molto rischioso Giocare a un mazzo Del genere Non gira molto bene Non è molto sinergico Però secondo me Si può fare qualcosa Solo basato Sulla meccanica Di ispirazione Poi lo vedremo Sicuramente Nei prossimi mesi Con i mazzi Dei prono Nei vari Nei vari tornei Vediamo che fa lui Pesca una carta O una di mana Vedo che poi fa poco Amico mio Allora Signori Adesso vi faccio vedere Che cosa figa esce Adesso Guardate qui Guardate Guardate molto bene Noi purtroppo Non ci possiamo permettere Di giocare Anche la fireball O te dico In realtà si Abbiamo la fireball Che fa 8 danni Giusto? Esatto Però Vi voglio far vedere La cosa divertente Qual è Una volta che avete Questa combo a terra Voi fate questo Cioè guardate Cosa sta succedendo Immaginatevi Con 2 mucla a terra Cioè Divina Qualche cosa E esce una cosa Del genere E dite Beh con chi attacco Sicuramente Con l'8 10 E poi con l'u Poi gli faccio Un danno Perché mi sembra giusto E poi L'attacchiamo Perché così Siamo più Più stronzi Questa è la cosa Simpatica Di questo mazzo Iniziare a far diventare Tutto enorme Perché col mage Te lo puoi permettere Signori Noi ci vediamo al prossimo video Spero che questo mazzo Easy Molto fun In realtà Vi sia piaciuto La lista L'avete avuta Ad inizio video Ve la faccio rivedere Giusto per correttezza E completezza Eccola qua Noi ci vediamo al prossimo video Enjoy E clan Siamo con voi Bye bye